Monta la protesta tra i pescatori saccensi ma anche delle altre marinerie dell'isola che hanno effettuato il fermo biologico 2022 entro il 31 luglio scorso, ora ritenuto illegittimo e da ripetere. Così il presidente della cooperativa pescatori Vincenzo Marinello commenta quello che è successo. Certamente che è un pasticcio, un pasticcio perché la regione siciliana ha fatto un provvedimento a due giorni alla fine dell'anno sostanzialmente che ha di fatto annullato e revocato il precedente provvedimento, non è mai successo un errore di questo tipo, tra l'altro la nota del ministero sembra che sia del mese di agosto che si sono tenuti in regione all'interno del cassetto, nel senso che questo provvedimento poteva essere fatto ma andava fatto in un altro modo, salvaguardando il periodo del resto che già era stato fatto anche perché era all'interno dei piani di gestione, perché il piano di gestione nazionale, la preoccupazione da parte del ministero circa la rendicontazione dei fondi, prevede sostanzialmente un periodo che è un periodo primaverile e un periodo autunnale. Quindi se avessero sanato e lo potevano fare nell'ultimo provvedimento, non creando questo pasticcio, con un aggravio nei confronti delle imprese di pesca di riproposizione del fermo temporaneo, ci sono state costrette a rieffettuare il fermo temporaneo, dall'altro lato ad oggi non prevedono elementi risarcitori per quanto riguarda il primo periodo di fermo, ovviamente questo provvedimento in questo momento è al vaglio da parte dei nostri legali affinché si possa capire come procedere per ottenere quantomeno un risarcimento del danno, che ovviamente non sarà mai il danno effettivamente subito, cioè il lucro cessante da parte delle imprese. Certamente il danno emergente noi confidiamo molto da questo punto di vista che non so se politicamente faranno qualche provvedimento in questa direzione o diversamente dovremmo procedere in due termini, così come prevede la norma e la giurisdizione in particolare, provvederemo a chiedere alla Regione che questo errore venga compensato nei confronti delle imprese di pesca, ma non solo nei confronti delle imprese di pesca, ma anche dei marittimi, i quali si ritrovano… Senta, ma quante imbarcazioni hanno effettuato a sciacca il fermo biologico? E guardi, circa 60 imbarcazioni, non so se sono 58 o 60 imbarcazioni complessivamente che nel periodo di marzo-aprile prevalentemente hanno effettuato questo periodo di arresto temporaneo, ma la cosa più grave, ribadisco, la Regione nell'ultimo provvedimento doveva quantomeno salvaguardare i periodi di fermo già effettuati, perché questo salvaguardava da un lato la risorsa e dall'altro l'altro il buon andamento della pubblica amministrazione. Le cooperative della pesca, le associazioni di categoria sono mobilitate chiaramente? Ovviamente, come ho detto, noi già abbiamo dato in carico tutti assieme a un legale per approfondire questa tematica e per capire le mosse da un punto di vista giuridico da porre in essere, da qui a breve avvieremo questa azione risarcitoria nei confronti della Regione, che ahimè ha commesso un errore all'inizio e l'errore poi più grave, quello di fare ripetere il fermo temporaneo non tenendo conto di quello che prevedeva il piano di gestione, perché il piano di gestione probabilmente aveva due periodi, vero è che questi due periodi erano per specie ittiche, il gambero da un lato, le triglie e i merluzzi dall'altro lato, però considerata la situazione emergenziale che si è venuta a creare quest'anno legata al caro gasolio, legato anche a questo errore che è stato commesso da parte della Regione Sicilia, un errore rispetto al quale ad oggi non prevedono un elemento risarcitorio. Noi confidiamo sostanzialmente nel buonsenso e nella ragionevolezza da parte del governo della Regione, dico nostro perché noi siamo operatori siciliani, ma ovviamente è il governo di tutti, noi ospichiamo che il governo della Regione ponga il rimedio in maniera urgente.